Grazie dunque all'Avvocato Kultrera, avete visto, ora le armi si stanno affilando e si riesce a intravedere quelle che sono le linee guida di ogni programma, ma anche un po' quello che, come si dice, c'è sempre un avversario, uno fa la partita su un avversario che può sembrare più forte e deve giocare per vincere soprattutto su quell'avversario. A presentare le proprie liste e anche i propri assessori è stato il candidato Riccardo Schirina, che domenica sera è stato a Marina di Ragusa, ecco magari mettiamo queste immagini prima regia, ecco a Marina di Ragusa c'è stato questo appuntamento di Riccardo Schirina che ha messo in campo un po' quelle che sono le caratteristiche delle campagne elettorali multimediali e più sul raccordo con la gente. Una serata che poi ha visto tantissime persone partecipare fra spettacoli, discorsi, incontri, insomma è andato molto bene e Riccardo ha potuto fare la sua performance politica fra tanta gente e anche con degli spettacoli molto interessanti. come è fatta la sua squadra? Allora si tratta di Giancarla Lacognata, nome da sempre presente nella politica attiva, poi c'è Tiziana Vitale, giovane commercialista e persona di altissime qualità professionali, l'avvocato Michele Sbezzi e il commercialista Claudio Castilletti. A primo acchito come si dice, si vede che non ci sono come ha fatto invece il movimento cultuera o anche il signor Cassì, non ha messo i leader delle coalizioni, ha invece scelto delle personalità valide probabilmente per le loro capacità politiche, professionali, Giancarlo Castilletti, Michele Sbezzi, solo personalità, Sbezzi è un avvocato di grande stima, Castilletti commercialista, ma anche Giancarlo Lacognata un attivista politica da sempre e quindi ha fatto una scelta ben diversa. Però per Riccardo Schirina quella di l'altro ieri, domenica, è stata una giornata particolarmente importante perché è venuto a Ragusa il segretario nazionale del PD, dovremmo dire la segretaria nazionale del PD, la Ellie Schlein, che è venuta a Ragusa proprio per presenziare, partecipare a questo appuntamento di Riccardo Schirina. C'era tanta gente, nonostante l'orario scognito, come si dice, ci ha costretto a tutti a non mangiare. È venuto alle due, l'appuntamento era a due e mezza, poi vabbè, siamo arrivati alle tre e mezza. E devo dire che c'è stato un momento simpatico, Riccardo Schirina ha consegnato al Schlein delle tessere. Ecco, guardate, questo è il momento davvero simpatico in cui Riccardo ha consegnato la sua tessera della sinistra giovanile, insomma la tessera di suo padre, sono dei ricordi di una storia trascorsa nell'area chiaramente di sinistra, come si chiamava prima, tutta l'area di sinistra, nel tempo ha voluto consegnare le sue tessere chiedendogli, chiedendole a lei di ritornare e riportargliele quando sarà sindaco. Va bene. Allora, noi abbiamo fatto queste interviste, un po' con tutti, quindi c'è un po' di confusione, però non potevano mancare due argomenti particolarissimi. uno, le infrastrutture, e lei ha parlato a lungo, e poi sentite la domanda sul fatto che questo PD è troppo a sinistra. Vediamo.